Se tu e io in culo non tu guardare Sì Ti piace un po' lì? Come si pare a me la caccia? Per soldi? Poi se non volevi fare di più Mi scopo un culo Per soldi? Per soldi? Per soldi? sborro a bocca, quanto vuoi? tu quanto vuoi? dimmi tu tu di solito quanto vuoi? se sborro chiedo a 40 40 per me è la prima volta però volevo un attimo è la prima volta per me non... vuoi fare? volevo sapere come funziona ma tu vuoi fare? tu di solito che fai? lo scopo cioè? qua dentro ma tu vuoi fare? ma lo fai con qualche persona ma lo faccio tanto attivo forse faccio con quelle persone con i ragazzi oppure con gli anziani giusto per capire? non con tutti se vado con quelli chiedi di più con l'anziano chiedi di più quanto chiedi con l'anziano? dipende ma tu da dove vieni? no l'anziano chiedi di romania cioè tu di solito che fai con le persone? non solo attivo non solo attivo cioè se uno viene e dice che vuole essere lui attivo tu dici no 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 come ti chiami? come ti chiami? come ti chiami? come ti chiami? steliano è la prima volta quindi volevo capire come funziona chi viene e qual fa di solito e tu sei passivo ti piace sfogare la casa? si tu mi pare a me la casa per soldi io a te? si tu a me? io a te no perchè sono attivo poi se uno vuole fare di più mi scopo un culo e da dove vieni? a romanino romanino? si sono romanino certo perciò ci fai vedere altro commento quanti anni hai? 19 19 19 sembravi più peggiorno eh si lo so che mi la faccia mi dà lì ma com'è che vieni qua a fare questa cosa? a me? per solito vieni qua per solito fai qualcosa con te con altri ragazzi si a te ti piace sperma ci giuro che c'è tanto sperma ah ti giuro se io volessi conoscere qualche ragazzo anche peggiorno tu li conosci? si prima fai qualcosa a me dopo ci fai qualcosa ma qua o fuori? dove vuoi? c'è la monofratella a casa che sta a casa adesso che mi aspetta a casa ascolta e dopo che fai qualcosa come ti dico dopo ci fai vedere a tutto che vuoi lo sai al bani tutto ci fai vedere dopo che fai tutto ti giuro ok solo guardi per un momento a tutti scusate siv qui poi rilanssare si rilanssare fai queste cose per rilansare no? si 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 si. Si ma tu vuoi toccare? Si allora. Andiamo a guardare. Ti fate? Si. No. Dove? Un'auto. Si. Senza documento, senza niente, sforzo 15 euro per un'ora 20 euro Quanto mi devo dare? 40, 50, 80 euro A me mi devi dare almeno 100 euro per sforzo 30 mei, 100 a lui L'ho sforato, no? Ma un anzino Ciao Bene Vai, Cristiano E di solito che fai con un po' la paglia del suo? E pure anche se vuoi prendi dietro un po' Se volessi essere io attivo, non ci stai Bene, è quello che vuoi Ah, tutto? Sì E poi faccio vedere dove Sono poveri perché è la prima volta Tu, che a me, tranquilli Se tu, io li incuro, non tu guardare? Ti piace un po' lì? Tu vi direi cosa? Se c'è il bagno sopra, grandi Entriamo, io li incuro Io li incuro Non c'è il bagno sopra, non c'è problema Io li incuro Non c'è il bagno sopra Non c'è il bagno sopra Non c'è il bagno sopra 5 euro per sforzo No c'è il bagno sopra Grazie.